Cantieri aperti per molte abitazioni classificate B e C, ovvero con danni lievi, i lavori procedono, ma non per tutti. È stato lo stesso sindaco dell'Aquila, Massimo Cialente, nelle scorse settimane a rimarcare che tutti i titolari di case B e C che hanno ottenuto il contributo definitivo alla ricostruzione devono tenere presenti le scadenze perentorie. Paolo De Santis, il presidente dell'Ordine degli Ingegneri, però punta il dito contro lo stesso comune che a suo parere sa ma non agisce. Il comune può avere a disposizione tramite Fintecra, perché personalmente io ho fatto questa ricerca giovedì scorso, di tutti i condomini, di quante pratiche ci sono, quale parte strutturale, il buono contributo è stato rilasciato, quindi il comune ha tutti a disposizione. Uno dei principali problemi è la lentezza con cui la macchina della ricostruzione procede, in fortissimo ritardo il rilascio dei DURC, ovvero i certificati obbligatori che attestano la regolarità delle imprese. Stiamo fermi alle richieste dei DURC perché pur che lavorano dentro al comune, però il numero di pratiche sono tante, a inizi di agosto per la richiesta. Il comune, a chi sta facendo effettivamente il bel regalo e tutto questo, alle banche, che soldi ce l'hanno e quindi quei soldi più tardi si danno e più loro li possono utilizzare. Mentre procedono le demolizioni di edifici gravamente compromessi, resta aperta la sorte delle case E gravi, la cui ricostruzione può arrivare a costare oltre un milione di euro e per le quali si profila il ricorso al Bando europeo. Sono riuscito ad avere, proprio 10 giorni fa, un parere regale del professor e avvocato Lorenzo Passeri, il quale in un'articolata memoria, fatta di oltre 20 pagine, dice proprio la questione, che per i beni danneggiati da eventi calamitosi, tipo terremoto, frane, alluvioni ed altro, questi contributi che vengono date a sovvenzioni sono indennizi risarcitori, quindi non bisogna fare nulla, non bisogna fare né gare né altro.